Tutto è iniziato tre anni fa, ma ora si sta realizzando appieno con la preparazione della campagna di lancio 2023. È il primo sindacato dei web influencer e dei content creator in Italia, nonché l'unico effettivamente attivo oggi in Europa. Non è una truffa? E scoprilo! Stop! Come andava? Vuole offrire tutela fiscale illegale a tutti coloro che lavorano nel mondo del web, ma che non sono ancora riconosciuti come lavoratori a tutti gli effetti. Il sindacato offre ai propri membri anche servizi di assistenza come supporto psicologico e aiuto nella gestione delle attività quotidiane. Ti dà una forza? Sì. Quindi tu ti ricarichi? Abbiamo detto allo stesso... Devi organizzare il programma della comunicazione, rispondere ai follower, essere in grado di gestire i rapporti con i brand, avere un'agenzia che ti supporta. Devi andare a leggere tutte quelle che sono le statistiche dei tuoi post, di quelli che sono i contenuti che tu vai a pubblicare. Il lavoro è tantissimo e devi arrivare a questo livello. Può sembrare strano o bizzarro, ma anche i web influencer e i content creator hanno bisogno del loro sindacato. Il mondo del web non è solo scintillante, veloce e dai guadagni facili, ma è anche il luogo dove i lavoratori devono difendere i loro diritti. Daniele è un giovane attore, ma anche un content creator che ha trasformato la sua passione in un lavoro vero e proprio. Lui è uno dei tanti lavoratori del web che ha deciso di far parte di Asso Influencer. Un lavoro a tutti gli effetti, che ti impiega molto più delle classiche otto ore da ufficio, perché ci sono dei giorni per esempio che io lavoro fino a tarda sera, giorni che sbatto la testa per realizzare un qualcosa senza riuscirci. Quindi comunque è un lavoro a tutti gli effetti ed è giusto che venga tutelato. Un creator partecipa a un evento e la sua immagine oltre che nel programma viene diffusa in maniera di pubblicità. Fintanto che questa professione non verrà considerata come tale, sicuramente ci saranno questo tipo di criticità che noi stiamo cercando di affrontare. Non c'è una cassa di riferimento, quindi noi non possiamo versare un X all'anno per dire io sono un creator. No, io sono un lavoratore e per lo santo faccio... no, non si sa ancora. Non sono semplicemente tecnici del web o videomaker, sono web influencer e content creator e dovrebbero essere riconosciuti come tali. Perché nel weekend per arrotondare e pagarmi gli studi faccio il rider, le ho consegnato...